Nasce da una famiglia di attori che la fanno partecipare sin da bambina a spettacoli soprattutto di prosa dialettale toscana, sino alla metà degli anni 40, quando si trasferisce a Roma per seguire i corsi di recitazione del Centro Sperimentale di Cinematografia. Non riesce a diplomarsi, perché nel frattempo ha già cominciato a lavorare nel cinema. Scoperta da Gennaro Righelli, che la fa debutare nella pellicola Basso la ricchezza, accanto alla Magnani, seguono film altrettanto importanti, diretta da registi come Zampa, De Santis, Bonnard, Cottafavi e Vergano, Ma col passare degli anni le proposte di lavoro riguarderanno solo film di scarso impegno sino, alla fine della sua attività di attrice cinematografica nel 1966. Tenterà anche la via del ritorno al teatro senza notevoli successi. È la partecipazione alla prosa televisiva in alcune commedie e sceneggiati tipici del periodo.